Il Partito Democratico non è un osservatore disinteressato alla crisi che si è aperta dentro il Movimento 5 Stelle. Conviene al PD fare il tifo per la ritrovata unità tra Conte e Di Maio, con il rischio che magari il Movimento 5 Stelle sia sotto legida di un garante ingombrante che pone anche delle linee politiche in contrasto con l'azione di governo. Penso per esempio a tutta la questione legata alle critiche dell'atlantismo e a una vicinanza alla Cina e alla Russia come sono state espresse recentemente da Beppe Grillo. Grazie, buongiorno. Guardi, c'è un principio che normalmente vale ed è quello di non ingerenza nella dialettica interna alle altre forze politiche tra esponenti politici perché naturalmente i giornalisti e i commentatori sono liberissimi di farlo. Io vorrei attenermi scrupolosamente a questo principio. Penso che non sia opportuno prendere parte rispetto ad un dibattito interno che va rispettato e seguito con attenzione. La seconda riflessione, e la faccio come esponente del Partito Democratico, che ha nel Movimento 5 Stelle un interlocutore privilegiato nella costruzione di un campo di forze alternativo alle destre, io mi auguro e dell'auspicio che esprimiamo tutti e che mi auguro e auspico che ci sia un superamento, una ricomposizione in tempi rapidi e che il Movimento 5 Stelle torni pienamente in campo con le sue idee, con le sue proposte, tenendo conto tra l'altro che condividiamo la responsabilità di sostenere il governo Draghi. Lei è preoccupato, Misiani, che qualunque sia l'esito di questa crisi il progetto di un centro-sinistra? Matteo Lepore a Bologna parla addirittura di una riproposizione di un ulivo su nuove basi, possa essere messa in discussione? Noi stiamo lavorando innanzitutto per rafforzare il Partito Democratico e per renderlo perno di una discussione larga nel Paese. Stiamo svolgendo adesso, in queste ore, la direzione nazionale nel corso della quale il segretario Letta sta presentando il progetto delle Agora Democratiche, una piattaforma partecipativa che nella nostra ambizione dovrebbe muovere un dibattito dal basso nel centro-sinistra. Poi è chiaro che il centro-sinistra da solo non è sufficiente nella costruzione di un'alternativa rispetto all'alleanza tra Fratelli d'Italia, la Lega, il campo di forze egemonizzato dalle destre sovraniste. Il Movimento 5 Stelle è un interlocutore indispensabile da questo punto di vista. Noi abbiamo lavorato per costruire alleanze alle elezioni amministrative, in alcuni casi ci siamo riusciti, in altri no, perché le condizioni locali sono molto diverse e questo ha influito nella dinamica della costruzione delle alleanze a livello locale, però ci sono sfide importanti in cui noi correremo insieme al Movimento 5 Stelle, una tra tutte a Napoli a sostegno di Gaetano Manfredi. Allora, Gerusalemme.